Sì, sentivo qualcosa a spingere in basso, ma... No, no, all'idea poi! Ma stai scherzando? Spare il diacro azzurro! Sento in basso! Cos'è basso? Una fighetta! Non siamo responsabili di noi! Gli ho detto, l'impone è che non ti dici che mi conosci, poi va bene tutto... Perché sennò sei fregato! La prima cosa che mi ha detto è... Via, via, fa quello di base! Parti da sotto e parliamo proprio dall'inizio giustamente, per sforza, mi sembra giusto